Si gioca sul quorum, prima ancora che sullo scrutinio, il referendum di oggi per decidere sulla durata delle concessioni per le trivellazioni. Se vince il sì, le società petrolifere, che hanno già concessioni per estrarre gas e petrolio in mare entro le 12 miglia marine, circa 22 km, una volta scaduta la concessione dovranno chiudere la piattaforma e riconsegnarla alla scadenza prevista. La prima trivella si fermerà nel 2018, l'ultima nel 2034. Se vince il no, la stensione alla norma rimarrà in vigore così com'è. L'attività di estrazione potrà continuare fino all'esaurimento del giacimento. Sono oltre 50 milioni gli italiani chiamati a esprimersi sul quesito promosso per la prima volta nella storia repubblicana da otto regioni. Le consultazioni elettorali si svolgeranno dalle 7 alle 23. Il corpo elettorale è ripartito negli 8 mila comuni e nelle oltre 61 mila sezioni elettorali del territorio nazionale e pari a più di 46 milioni e 730 mila elettori. A questi vanno aggiunti quasi 4 milioni di elettori residenti all'estero. Il Viminale ricorda che per poter esercitare il diritto di voto bisognerà esibire, oltre a un documento di identità, la tessera elettorale. Qualora non si rinvenga la propria tessera elettorale o si rilevi che gli spazi per la posizione del timbro sono esauriti, spiega che il Ministero si potrà chiedere una nuova tessera agli uffici comunali che assicureranno l'apertura al pubblico anche oggi e per tutta la durata delle operazioni di voto dalle 7 alle 23. Lo scrutinio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. I risultati saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno. Loredana Colloca per la Cinews 24.